Bentornati a tutti sul mio canale, io sono Majin, nuovo video estratto dalla live di un paio di sere fa probabilmente Dove è successo di tutto raga ma veramente di tutto Tanto per cominciare abbiamo scoperto che PyCon è il vero padre di Gohan Dopodiché siamo passati al trovare un avversario che aveva 200 di chi e che poteva sparare 4 special move di fila E che pensavo fosse un cheater ma in realtà poi non era un cheater ma era pure uno che mi seguiva Quindi mind blowing E per concludere abbiamo riscritto la storia utilizzando Kralin ma non voglio dirvi più di così Raga è stata una live epica, potete recuperarne una buona parte da questo video Ma se volete seguirmi per bene il link è questo Dopodiché raga chiedo come al solito gentilmente un like per il supporto sulla fiducia E se siete nuovi del canale vi invito anche caldamente a premere su quel tasto iscriviti Per non perdervi più nemmeno un singolo contenuto di quelli che andrò a pubblicare E soprattutto per darmi una mano verso il raggiungimento dei 25.000 iscritti entro la fine di questo marzo Quindi raga belli carichi, vi lascio al video Sigla! Exotic Pycon non dobbiamo neanche cambiare siamo già su di lui raga E io voglio rivedere cosa fa Pycon non me lo ricordo Me lo ricordavo meno schifo di così raga È il suo showcase praticamente Più o meno vediamo non so se lo porterò in tutti i match È più uno showcase esotico di sto team Red Red Green che finalmente posso fare dopo aver dato multi zeta power sia Pycon sia Adabura Ok Nice Vai Brrack Danni pazzi danni pazzi già Sfrutta quel cover rescue Pycon No dovevi entrare Pycon Ma voi Is Is Ok verde Ah la pose raga Non va nix per te Che schifo di danno No Pycon Attento Pycon Attento Pycon Andiamo di blast proviamoci Ok Wow Infame che non sei altro Però il suo l'ha già fatto Il suo l'ha già fatto Buono Vai Pycon Vai Pycon Vai Pycon Quanto sarà bello raga quando metteranno tipo le slip di Pycon Saranno le mie slip preferite No Siamo finiti nella combo Oh Dai dai che tanki tutto Dai che tanki tutto Dai che tanki tutto No No Piuttosto buttiamo via Questo match Ho come quest'impressione Vai Gohan Vai Gohan Pazzo esotico pazzo esotico Grande Pycon raga Mi abbiamo battuto anche un androide Ma meglio per ora solo un androide Solo un androide Vamonos Ok Oh lo temi il mio Pycon Vai diretto di special move Metà caffì raga così Da pretrasformato Pippa al sugo Pippa al sugo Proprio ora no? Noice Ok Nooo Non farlo non farlo No Vegito please Povero Pycon Ha fatto il suo direi no? No Subarashii Vado retro Ok Oh Molto bene Molto bene Molto bene A te tirascio Così Per sport Per sport Ok nice E E meno uno Peccato 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 Buono sel Ok Ok Proviamo a svoltarla con Gohan Tutto nelle mannie di Gohan E' tutto nelle mannie di Gohan raga Non si mette bene Non si mette bene Mi sa che mi ultimatizza Uh diretto però Senza manca una strike Forse stiamo in vita forse Wow Forse Wow Per super E' tutto E' tutto E' tutto Bro di là che ci dice vai Gohan, vai Gohan, tu sei mio figlio in realtà. Shiro merda! Shiro! Oh no! Oh, ottima attesa! Dentro l'altro Kuririn. Buono, Cell! Noi su! Oh, di se hai rischiato un rising! Peso! Ok! Switch subito, voglio fargli fuori la sfera! Ok, Pipi non ci voleva! No! Volevo switchare prima di così! No! Rovinato, raga, in due mosse! Ma cos'è? Ma perché? Ne hai un'altra? Cioè, raga... Raga, che cosa c***o vuol dire? Shiro merda! Shiro merda! Con questa canzone sotto, poi! Ciro merda, ma cosa c***o vuol dire che tu hai quattro special movie in mano? Pennilu! La prima special, me l'ha chiamata Vegeta, mi ha caricato il chielo, ho lanciato. Dopo la main di Trunks ho recuperato Fulchina, avevo altre due in mano, la quarta è uscita random, so che sembra strano, ma non ho usato uscito altro, il GG era perché ti seguo e ti supporti i tuoi rapport, però mi hanno deluso, spero che gli admin te lo facciano leggere. Pennilu, perdonami bro se t'ho reportato, ma che c***o, non aveva senso quello che è successo, più che altro, sì ok, una ti ha ricaricato il key con Trunks, ma me ne hai tirate quattro con Trunks! Cioè, io ti credo bro, io ti credo, i report non li posso togliere, però bro è stata una cosa che veramente chiunque l'ha visto, ha detto, cosa? 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 Chiunque, il 90%, 99% della chat, possa aver pensato tranquillamente che eri un cheater bro! Lo dico tranquillo, tranquillo! Ne faccio ancora una, dai raga! Questa è veramente l'ultima! Un JJ Ramirez da Mille Good Game, Mille Equipa Z e Z+, e Lineage of Evil, raga! È un fratello, sì, ma mi spaccherà il c***o questo! Questo sarà un problema immenso, raga! E renderà canonica la morte di questo Krilin! Dobbiamo cambiare la storia, raga, dobbiamo cambiare la storia, la canonicità! Krilin, rimboccati le maniche! Furiza! Furiza! Non è lui, non è lui! Ok! Vai su, Pajamsha! Oh no! Guardate già che danni mi fa! Ok! Kienzan! Oh! Kienzan! Ok! Devo bloccarti qua con me! Perchè io non c'ho mai un Rising Rush, c***o! Quando mi serve! Ok! Wow, Yamcha, cosa hai fatto? Salviamolo un attimo, vediamo! Ok, ok, ok! Nice! Prenditi la tua vendetta Krilin! Wow! Ok, Yamcha Keio! Oh Infamous! Salviamolo, salviamolo! Ok, Ultimate che mi shotta e mi scoppia! Sta diventando canonico! Ah 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 ah! Mhhhhh! ah 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 ah! Sì, Krilin! Sì, Krilin! Sì, Krilin! Krilin, hai cambiato la storia, cazzo, Krilin! Hai cambiato la storia, Krilin! Hai riscritto la storia, Krilin! E con questa, raga, sì che possiamo andare a dormire felici dopo che Krilin in questo passato alternativo sopravvive. E non cambia nient'altro poi nella sua storia, resta una pippa. Ma sopravvive!